Eccoci alla domanda numero 127 del Catechismo di San Pio X. Chi sono gli eretici? Gli eretici sono i battezzati che si ostinano a non credere qualche verità rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa, per esempio i protestanti. Quante volte sentiamo la parola eretico? Eretico nella Chiesa è la persona, non dico la più esecrabile, ma veramente è una cosa molto grave l'eresia. Perché? Perché vuol dire professare una fede che non è quella della Chiesa, che le rassomiglia, ma è una fede che quindi non salva. Perché solo la fede della Chiesa salva, porta in paradiso. Chi ha una fede diversa non ha questa garanzia e quindi rischia l'anima. Allora, sono quei battezzati gli eretici? Allora, i maomettani, gli islamici, gli ebrei non sono eretici, loro hanno un'altra religione, un'altra fede, ma sono quei battezzati, cioè quei cristiani, che si ostinano, cioè volontariamente, a non credere a qualche verità rivelata da Dio. Se noi andiamo fuori dalle parrocchie, fuori dalla messa, e chiediamo, ma tu credi nella resurrezione della carne che professano nel credo, cioè che noi risorgeremo con la nostra carne, la stragrande maggioranza delle persone non ci crede. hanno fatto le prove sociologiche proprio, hanno fatto le domande fuori dalla Chiesa. Allora, voi capite che è una situazione grave, grave. Cioè, stai dentro la Chiesa, professi un certo credo, ma non ci credi, stai fingendo. Le tue idee, la tua testa ti apporta altrove, ma se la tua testa ti porta altrove, e anche la tua vita pratica poi va altrove, purtroppo lo si vede, la società va a rotoli, fa delle leggi abominevoli, le leggi sull'aborto, l'eutanasia, il genere, tutti questi orrori derivano dal fatto che i cristiani hanno smesso di essere cristiani. Si professano cristiani, addirittura nei decenni passati c'era un partito democristiano che ha fatto le leggi per l'aborto, ha fatto 6 milioni di morti, il divorzio, e adesso aprono per l'eutanasia, e poi il cambio del sesso, eccetera, eccetera. Che non sono cose cristiane, non sono cose volute da Dio, sono cose esecrate da Dio stesso, chi le compie. Questi sono gli eretici, e fa l'esempio, il catechismo, ad esempio i protestanti. Ormai i protestanti di oggi, allora facciamo eccezione per Lutero, Calvino, questi qua, Lutero era un prete, era un monaco, addirittura agostiniano, che ha buttato alle ortiche la sua tonaca e ha fatto i suoi porci comodi, e ha insegnato delle cose sbagliate, cattive, perniciose. Oppure l'eretico Montano, il vescovo Montano, che professa l'eresia dell'antimilitarismo, del pacifismo estremo, che è un'eresia condannata dalla Chiesa. Non dimentichiamo che le eresie non le fanno, non le professano generalmente i laici, la gente comune ha una fede semplice, che è poi quella che piace a Dio. Hanno sempre create, professate, insegnate, propagate vescovi e sacerdoti. Ahimè, questa è la realtà storica inequivocabile. E non è mancanza di rispetto dirlo, perché è una verità dei fatti. Il problema più grave oggi sono, più che i protestanti, che ormai non hanno colpa di non avere tutti i sette sacramenti, e tutta la pienezza dei mezzi di grazia che abbiamo nella Chiesa Cattolica, ma sono quei cattolici che stanno dentro la Chiesa e professano dottrine non più cattoliche e quindi non più salvifiche, ma dannifiche. Vi faccio un solo esempio che ha fatto lo stesso Papa Benedetto XVI. Quei preti, quei cristiani, quei vescovi che non credono nella presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo, corpo, sangue, anima e divinità, nell'ostia santa, nel calice, durante l'eucaristia. Non ci credono. Ritengono che sia solo un segno, che sia solamente un simbolo. E quindi trattano Gesù Cristo come trattassero dei cracker. Così, con non curanza, con poco rispetto. E quindi anche il modo di fare la comunione diventa poco rispettoso, o di dare la comunione. Questi sono veramente quelli pericolosi, che fanno del male all'anima delle persone. Perché se un fedele non ha più questo amore, questo rispetto, questa devozione suprema per il corpo, il sangue, l'anima e le divinità di Cristo, cosa mai lo potrà salvare? Chi sono gli eretici? Gli eretici sono i battezzati che si ostinano a non credere qualche verità rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa. Per esempio, i protestanti. Chiesa!